Da due caselli autostradali a quattro. Pesaro e Fano scrutano il raddoppio di varchi nell'autostrada 14 dopo la riesumazione di pratiche impolveratisi da un decennio di stop and go. Nel giro di due settimane invece sono tornati sull'agenda dei lavori di società autostrade sia il casello di Fano Nord da realizzare a Fenile, sia il casellino monodirezionale Pesaro Sud previsto in zona Santa Veneranda. L'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha confermato la scorsa settimana che il casello Fano Nord non ha più ostacoli dopo il confronto con società autostrade impegnatasi a consegnare l'opera nel 2025. Un casello progettato con criteri a basso impatto ambientale che hanno avuto il nulla osta della soprintendenza. Per il casellino a Santa Veneranda invece il consiglio comunale di Pesaro aveva dato l'ok a febbraio 2022 nonostante le rimostranze di resistenza esternate da diversi residenti della zona. Negli ultimi giorni è emerso che il progetto esecutivo è pronto ed è al Ministero delle Infrastrutture per il via libera a lavori affidati ad Amplia ovvero alla ditta interna a società autostrade. Il cronoprogramma prevede che società autostrade inizi i lavori nel 2024 per un casello che avrà come unico sbocco la corsia sud. Un lavoro che si mette in fila ai cantieri delle altre opere compensativi previsti nel 2023. Dopo la circonvalazione di Muraglia su strada Carloni entro l'anno partirà la circonvallazione di Santa Veneranda e la bretella dal casello alla Monte Labattese.